Musica Purtroppo il momento è proprio difficile, settima sconfitta consecutiva grosso rammarico perché per tre quarti abbiamo proprio giocato un'ottima partita giocato bene sia in difesa che in attacco c'è stato il momento in cui abbiamo preso un break ma più che dagli avversari abbiamo avuto un break mentale noi ci siamo completamente scollegati e da lì la nostra partita sostanzialmente si è chiusa Purtroppo il continuare a perdere mette un tarlo nella testa dei giocatori li fa perdere tutta la loro sicurezza ed è difficile finché non riusciamo di nuovo a vincere trovare di nuovo la sicurezza che si può permettere di portare a casa qualche partita Grazie La partita è difficile contro Gorle, dopo un primo tempo equilibrato con loro sempre sopra grazie alle nostre percentuali di tiro molto basse e la loro buonissima difesa dentro l'area sia a uomo che a zona abbiamo fatto molta fatica nel terzo quarto loro sono partiti molto bene, siamo andati anche a meno dieci e la partita si è messa male nel momento in cui forse di massima difficoltà nostra con i primi falli di Agostini, i primi falli di Sartora l'entrata in campo di Scazzola con l'uso di Marelli da numero quattro ha cambiato completamente la partita a rimbalzo d'attacco Scazzola in post basso ci ha dato molto Marelli ha aperto la scatola con qualche tiro da tre punti e qualche penetrazione contro i loro lunghi e lì la partita è girata, si è risolta siamo riusciti ad andare in ritmo anche difensivamente a uomo e lì la partita è completamente cambiata loro probabilmente hanno accusato anche un po' di stanchezza e poi alla fine il risultato ci sta ci sta perché nel secondo tempo abbiamo fatto comunque una discreta partita